Una buona giornata, una buona mattinata a tutti voi cari telespettatori di Fanotv, oggi è lunedì 25 luglio 2022, siamo all'inizio di questa nuova settimana che ci porta a concludere questo luglio molto caldo, infuocato oserei dire, lo vedremo tra poco anche attraverso gli articoli dei giornali, ben ritrovati dicevo, cominciamo subito la nostra rassegna stampa con il santo del giorno che oggi è un santo importante, San Giacomo il Maggiore, d'accordo, è la festa di San Giacomo Apostolo che figlio di Zebedeo e fratello di San Giovanni l'Evangelista fu insieme a Pietro e Giovanni testimone della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor e anche della sua agonia, decapitato da Erode a Grippa in prossimità della festa di Pasqua ricevette primo tra gli apostoli la corona del martirio e adesso il sole, vedete, è sorto alle 5.49 e piano piano, piano piano, ma non lo diciamo, insomma, con tanta enfasi cominciano ad accorciarsi le giornate, il tramonto è alle 20.40. A questo punto della rassegna l'appuntamento è con le previsioni del tempo e come sempre andiamo a vedere il sito della protezione civile delle Marche che per la giornata di oggi prevede sulla costa adriatica, vedete, cielo sereno, poco nuvoloso soprattutto nelle zone interne durante le ore più calde della giornata, le temperature sono comunque senza variazione di rilievo quindi avremo comunque altra giornata di caldo. domani, martedì 26, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con qualche breve fenomeno piovoso, ma limitatamente alla montagna marchigiana, quindi all'Appennino, per il resto, insomma, niente di che. Qualcosa dovrebbe arrivare, parlando di pioggia, sperando che porti un po' di acqua appunto per queste terre, nostre terre assetate, ma senza far troppi danni, dovrebbe arrivare intorno al fine settimana, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni, infatti lieve instabilità nella parte centrale di questa settimana, insomma. Allora, adesso invece voglio subito andarvi, attenzione perché la fotografia che sto per farvi vedere tratta di una testa di pesce gigante, vi do l'anticipazione così, vi preparate mentalmente con la fantasia per non farvela vedere subito sfacciatamente così, perché fa un po' impressione. Però è una foto che ci ha mandato il nostro reporter di strada, sapete, abbiamo più di 8500 reporter di strada sparsi in tutto il territorio, che sono riuniti in un gruppo chiuso di Facebook che è gestito dalla nostra redazione, Occhia la Notizia, e che questa mattina vi voglio far vedere, insomma. Ecco, è stata trovata nella spiaggia di Sassonia a Fano, allora eccola qua, questa testa di pesce molto grande, guardate il rapporto con i piedi, le gambe del segnalatore, insomma. Ecco, ora non so, io non mi intendo, non so che pesce possa essere, ma comunque effettivamente è molto grande. Se volete farci sapere, e se vi intendete di pesce, insomma fateci sapere, il numero lo sapete, 338-4968-250, ma i giornali, poca roba stamattina sui giornali, quindi faremo una rassegna stampa molto veloce. Allora, la prima pagina del resto del canino di questa mattina, con tutte le notizie che riguardano le province della nostra regione, su Pesaro, il fatto più importante, lo vedete, il giorno di Valentino arriva il casco gigante, eccola qua la notizia, se ne era già parlato diverso tempo fa, oggi c'è questa inaugurazione, con Valentino Rossi presente, che sarà lì a inaugurare questo casco gigante, questo mega monumento, è alto quasi 4 metri e lungo 5, sarà un, almeno nelle aspettative di chi l'ha pensata questa cosa, dovrebbe diventare un luogo cult per i selfie, cioè, insomma, dovrebbe essere un po' come la Torre Eiffel a Parigi, come, forse sto esagerando, ma comunque, insomma, per i tifosi, certamente per chi ama le motociclette, per chi vuole ricordare in qualche modo i successi di Valentino Rossi, insomma, 9 volte campione del mondo, ecco, sa che ci sarà questo posto, tra poco vi dirò anche dove, un quartiere di Pesaro dove si può fare anche questo selfie. Le altre notizie, invece, posso darvi da macerata questa polemica che riguarda un concerto che ha tenuto Mahmoud a San Severino, Marche, e che per l'opposizione politica di San Severino è stato un fallimento totale questo concerto. Perché? Perché la piazza era praticamente semivuota, c'era poca gente ad ascoltarlo, e dicono, incredibile, non sono riusciti a pubblicizzare il concerto. E poi sotto, invece, da Ascoli, Piceno e da Fermo, il documento, vedete, di taglio basso, con una fotografia di un carretto, un carretto giallo. Ecco, forse riesco a farvelo vedere meglio così. Non riesco ad allargare questa mattina, non so perché, ecco, forse facendolo così riusciamo meglio. Ecco, ecco. Paura, un po' poco pratico, ma comunque cerchiamo di farlo lo stesso. Paura Montegranaro. Carretto esce di strada e travolge sette persone. L'incidente durante la tradizionale folcloristica Crazy Race. Panico fra il pubblico, trauma cranico per una donna. L'estate torrida, caldo record, il top regionale raggiunto nel Maceratese. Adesso, invece, andiamo a vedere l'altra pagina, quella del Corriere Adriatico, l'edizione sempre quella di Pesaro Urbino. L'apertura è per il San Bartolo. Il San Bartolo, che è una zona tra le più belle che abbiamo in provincia di Pesaro Urbino, ed è assediata, questa zona, dalle auto. Turisti e bagnanti si riversano in massa a Fiorenzuola, mentre la navetta continua a girare semivuota. Contro la sosta selvaggia, l'unica soluzione è poter ricavare un'area parcheggio, ma l'iter è complesso. Poi, la fotonotizia. Parla l'ex cestista Maggioli, scoperta una fibrillazione. Lui lancia l'appello, ragazzi state attenti, il cuore mi scoppiava, racconta la sua disavventura. Tra un po' entreremo a vedere un po' meglio nel dettaglio, anche perché, insomma, il titolo, come al solito, cerca sempre di terrorizzare, senza mai spiegare meglio un po' come sono andate le cose, ma comunque era il Covid, stando a quello che evidentemente gli hanno raccontato anche i medici. Poi, concorrenza. Guerra totale tra i tassisti e i balneari. Questo è un altro articolo che troverete sulle pagine interne del Corriere. Studenti in vacanza puliscono i parchi come volontariato, questo accade a Pesaro. Affano invece tesori off limits, cioè non accessibili, così si beffano stranieri ospiti. Vedremo di quali tesori affano si parla. E restando in città il PD, parliamo di politica, il Partito Democratico cade a pezzi e braccio di ferro sul biodigestore. Poi un super casco per Rossi, la città è pronta alla festa, cresce l'attesa per l'opera in piazzale d'annunzio, ecco quindi vi abbiamo detto anche dove, sarà il campione ad inaugurarla insieme al sindaco, oggi alle 18.30. Poi il Fano da oggi, parliamo di calcio, affrontone per preparare la Serie D e dunque inizia il cosiddetto precampionato che prevede appunto questo periodo dove le squadre di calcio, ma un po' tutte le squadre, almeno si faceva così una volta, il ritiro, il famoso ritiro, si vanno a preparare dal punto di vista atletico dopo la pausa cosiddetta estiva, anche se siamo poi nel centro dell'estate. E a proposito di estate, il Corriere Adriatico, titolone questa mattina, addirittura scomoda l'apocalisse che investe le marche, San Severino sfiora i 42 gradi, sabato la giornata dei record, 12 città strette dalla morsa di questo caldo torrido, l'hanno chiamato apocalisse, chiaramente il Corriere ha ripreso semplicemente quello che ha sparato, credo che sia il sito del meteo che solitamente esagera, ed è il nome pare azzeccato, l'anticiclone africano che ha reso rovente l'ultima settimana marchigiana ha fatto registrare temperature record nel fine settimana appena trascorso, in particolare nella giornata di sabato, quando è stata sfiorata la soglia dei 40 gradi centigradi in ben 5 città della regione Marche, il primato spetta a San Severino Marche, dove la colonnina di mercurio è schizzata a 41,7 gradi, temperatura che nel comune del Maceratese non si era mai vista, almeno nel recente passato, e per il momento si accredita anche come la temperatura più alta del 2022 in generale nelle marche, ma insomma un po' tutte le città ieri hanno boccheggiato, insomma, ecco, poi c'è tutto l'elenco delle località dove appunto ieri si stava bene solo in casa, al fresco, con l'aria condizionata accesa, per chi ce l'ha. La cronaca invece ci porta alla pagina 10 del Corriere Adriatico, perché intanto la notizia più importante messa in evidenza, quindi in alto, la pagina 10 riguarda il volontariato nella città di Pesaro, Pesaro è la capitale del volontariato, i giovani sono i grandi protagonisti, invece di andare al mare puliscono spiagge e parchi, e il Presidente del Centro Servizi Volontariato, Nobili, rimarca questo impegno. Ecco, e poi invece sotto la cronaca, dicevamo, anziano cade nel pozzo mentre lavora nel campo, il pensionato soccorso da una squadra dei Vigili del Fuoco, ricoverato al San Salvatore di Pesaro, questo anziano nella serata di sabato è precipitato in un pozzo all'interno del suo appezzamento agricolo, nelle campagne di Monbaroccio, una caduta di diversi metri, riconsiderando che il pozzo è profondo circa 9 metri, da cui si è salvato per miracolo grazie a un complesso intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Pesaro. Questo anziano ha 78 anni, dalla corporatura robusta, scrive il giornale, e cadendo è rimasto incastrato nella cisterna, rimanendo in un pericoloso equilibrio. Ok, allora la pagina di Fano invece, sui tesori, dicevamo, dall'apertura, dalla prima pagina, quali sono questi tesori inaccessibili? Intanto andiamo sul giornale, vediamoli con le fotografie, sono la chiesa di San Pietro, con l'accesso agli scavi di Vitruvio, e la chiesa di San Francesco, sono tre gioielli del patrimonio cittadino interdetti alla visita dei turisti. Un pessimo biglietto da visita, in qualche modo, per la città di Fano. L'articolo di Massimo Foghetti, che dice, in questi giorni Fano trabocca di turisti, bella questa immagine, trabocca di turisti. Nella zona balneare, ma anche in centro storico, si sentono parlare molte lingue diverse, segno che, oltre agli italiani, sono tornati anche gli stranieri, pressoché scomparsi l'anno scorso a causa della pandemia. Iniziative come la Fano dei Cesari, poi il Festival Jets, non hanno smentito la loro forza di attrazione, anche se il mare, la spiaggia, l'accoglienza delle nostre concessioni balneari e del nostro sistema ricettivo, diciamo, l'hanno fatta da padrone. Però, purtroppo, c'è il problema che, appunto, una volta che i turisti sono arrivati qui, vuoi per la Fano dei Cesari, vuoi per il Gets, vuoi per il mare, tutto è, però, quando si ritrova questi angoli storici, eccetera, che potrebbero essere valorizzati, quindi resi accessibili, purtroppo, lì devono fare i conti con il lucchetto, con un cancello e un lucchetto che chiude e sigilla tutto quanto. Ecco, e qui si parla più o meno di questo. Si salva, ovviamente, ma solo perché è maestosamente bello l'Arco d'Augusto e le mure romane, che ovviamente non sono chiuse e quindi si possono ammirare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Poi, invece, gli operatori balneari, a proposito di Mare Fanese, se la prendono, come spesso accade di questi tempi, con i vigili che fanno le multe alle auto dei bagnanti. E qualcuno si lamenta e dice, beh, insomma, così bella accoglienza, insomma. E comunque si parla di un vero e proprio braccio di ferro, quello che si è instaurato tra l'Associazione dei Bagnini, avverente alla Confartigianato, e l'amministrazione comunale di Fano, per il modo con il quale vengono trattati i turisti. Se si fa promozione per incentivare le presenze in una delle località, come per esempio Ponte Sasso, e poi i turisti arrivano in gran massa, occorre predisporre anche una dovuta accoglienza in modo che questi turisti poi si sentano a loro agio e quindi puntare sui servizi. E tra questi c'è anche ovviamente la questione dei parcheggi, che non è una questione di poco conto. Andiamo adesso invece sul resto del Carlino, la pagina di Fano. Allora, sulla pagina di Fano abbiamo la politica, intanto, ed eccola qua, con la Lega dove Paolini, l'Onorevole, il deputato Paolini, chiede il rinvio del Congresso. E l'articolo parla di acque agitate in casa leghista a Fano. Incertezza sullo svolgimento del Congresso, ufficialmente i militanti questa sera alle ore 21 nella sede di Via Garibaldi dovrebbero eleggere il segretario cittadino, c'è però l'incognita della richiesta di rinvio dell'area minoritaria del partito che fa capo al parlamentare Luca Rodolfo Paolini e al consigliere regionale Luca Serfilippi. E quindi qui spiegano anche il perché, insomma, c'è questa richiesta di rinvio. Poi a Monbaroccio abbiamo anche qua la cronaca, l'abbiamo vista poco fa sul Corriere, si ferisce col vetro salvata dai carabinieri. No, questa è un'altra cosa che arriva però sempre da Monbaroccio. Questa è una ragazza di 20 anni probabilmente voleva farla finita, ecco, così ipotizza il giornale. Una ragazza sabato pomeriggio a Monbaroccio stava facendosi del male da sola, stava ferendosi gravemente, volutamente, gli amambracci con un coccio di vetro dopo aver ingerito una grossa quantità di farmaci. tutto per fortuna è finito con l'intervento poi delle forze dell'ordine. È caduto metà pomeriggio, uno dei familiari ha chiamato i carabinieri, la pattuglia è arrivata, i militari ci hanno parlato, insomma, alla fine per il momento si è risolta così. Sempre dal giornale, gang dei furti, furti di che cosa? Di marmitte, bloccata un'Audi sospetta, denunciati quattro uomini, avevano gettato fuori un pezzo e avevano arnesi da scasso praticamente. Erano in quattro, italiani, di origine romena. La loro Audi è stata intercettata sulla statale venerdì pomeriggio, dopo che una telecamera collegata alla centrale della Questura l'aveva segnalata come autosospetta, a quel punto una pattuglia della volante ha bloccato la macchina. I quattro all'interno, e tra loro c'era anche un ragazzo minorenne, non hanno reagito. Pare che poco prima dalla macchina fosse volato via un pezzo di marmita catalitica, da qui il sospetto che si tratti di un gruppo dedito ai furti di marmite catalitiche che anche in passato hanno danneggiato diverse auto in città. E qui ricordo il giornale come nel maggio scorso gli uomini del commissariato di Fano avevano arrestato un 42enne di Cerignola, uno dei presunti componenti di una banda che però in questo caso rubava non solo le marmitte ma addirittura tutte, la macchina intera in sostanza. Allora adesso invece andiamo a Senigallia, perché a Senigallia il Corriere Adriatico, così come l'altro giornale, racconta e scrive di un fatto di cronaca bastonate per un parcheggio conteso, l'aggressore denunciato dopo la fuga. Un pestaggio, di fatto un pestaggio sul lungomare Da Vinci, quattro ventenni fermati alla stazione con l'ascisce in auto. Un ragazzo è stato colpito a bastonate, praticamente sabato notte, sul lungomare Da Vinci al Cernin, durante una lite che è scaturita per un parcheggio conteso. C'ero prima io, no, ci sono venute, insomma, quelle cose lì. Alcuni passanti hanno chiamato la polizia per segnalare ovviamente la lite, ma nel frattempo l'aggressore si era dileguato, era scappato via. È stato rintracciato poco più tardi, mentre si aggirava ancora con il bastone. Un 35enne originario del sud-est asiatico, praticamente ubriaco. Il bastone è stato sequestrato e lui denunciato per il porto illegittimo dei ladri. Poi, attenzione, attenti ai ladri con gli auricolari, forzano l'ingresso, ma poi scappano. Questo è il titolo che significa tentato furto da tre castelli, erano in contatto audio. Ah, ecco, quindi avevano gli auricolari perché si erano in contatto, quindi si adavano le informazioni attraverso gli auricolari. Il bambino invece riconosce la sua bicicletta, siamo sempre sulla coronaca di Senigallia, la sua bicicletta rubata e gli è stata restituita. È riuscito a riaverla, grazie all'intervento della Guardia di Finanza. È successo ad un bambino di nove anni che grazie a un'attenzione molto elevata, questo bambino di nove anni ha riconosciuto la sua bicicletta che gli era stata rubata due giorni prima e grazie all'intervento della Guardia di Finanza è riuscita a riprendersela caduta sabato sera, i finanzieri erano impegnati in un posto di controllo vicino alla rotonda, poi alle otto di sera sono passati due nordafricani, avevano una bicicletta, il bambino, che è un senigallese, stava passeggiando con i genitori e l'ha riconosciuta subito. I due stranieri, notato il posto di controllo, si sono affrettati, ma sono stati subito bloccati dai finanzieri insospettiti da tanta fretta, da tanta agitazione. Si trattava di due persone già note alle forze dell'ordine. Poi c'è tutto il racconto che se appunto siete interessati potete trovare sulla pagina del Corriere, così come sul Carlino di nuovo preso a bastonate per un parcheggio, la cronaca da Senigallia, poi il caldo record, Genga, 41 gradi e Maiolati fa 40, è un canneto a fuoco, paura al Cesano. Le fotografie che tra l'altro sono arrivate anche in redazione facevano impressione, questo canneto che va di nuovo a fuoco con il traffico ferroviario vicino a Senigallia, tra Marotta e Senigallia, di nuovo sospeso. Le fiamme sono divampate poco dopo le 21.15 in questo canneto che costeggia il fiume Cesano. Allora adesso invece a pagina 9 del Corriere Adriatico, doveva essere breve la rassegna, invece siamo già alle 7.20 perché ci segue in diretta. Allora ci soffermiamo un attimino soltanto su questo articolo che riguarda questo ex cestista professionista Michele Maggioli che attraverso questo articolo di Simonetta Marfoglia questa mattina lancia un appello e dice io all'ospedale con il cuore che scoppiava, ragazzi credetemi, questo virus è bastardo, il monito dell'ex cestista Maggioli che da positivo al Covid ha scoperto di soffrire di fibrillazione atriale. Ora lui è sportivo, ipercontrollato sotto il profilo della prevenzione senza serie malattie pregresse ed è anche una stazza d'uomo formato salute per dirla in numeri, 45 anni, 2 metri e 12 di altezza, insomma quindi una cima, 120 kg di peso eppure Maggioli fino all'anno scorso club manager all'Aurora Baschettiese, oggi socio di un'altra società, ha scoperto di soffrire di una fibrillazione atriale lo stesso giorno che si è ritrovato positivo al Covid e oggi dopo un ricovero lampo all'ospedale di Marche Nord ha dei farmaci da prendere ovviamente, eccetera eccetera, però lui lancia questo appello dice ragazzi attenti non abbassate la guardia, non prendete il virus sotto gamba o non banalizzatelo a livello di influenza e ve lo dico raccontandovi quella che è la sua esperienza lui racconta anche come premessa che si è ammalato con difficoltà, una soglia del dolore molto alta e poi dice ha fatto anche la terza dose a dicembre del vaccino dice sono sempre stato attento ora lui racconta di come come ha preso il Covid nonostante la terza dose di vaccino insomma racconta di come poi un medico bravissimo medico lo ha lo ha aiutato ecco però la cosa curiosa di questo di questo articolo che porta la firma della brava Simonetta Marfoglia della collega Simonetta Marfoglia è che non c'è nemmeno il sospetto cioè si parla solo sul banco dell'imputato c'è solo il Covid ma non c'è nemmeno il sospetto non viene nemmeno citato il fatto che invece potrebbe essere per esempio anche il vaccino ma solo per citarlo è poi chiaro che i medici hanno detto così per cui uno fa riferimento a quello che dicono i medici però non c'è nemmeno e questo è un fatto curioso un po' anche sospetto del fatto che il vaccino che invece ne ha complicate tante di vite anche dal punto di vista cardiologico per non parlare poi di quelli che ci hanno lasciato la pelle ma comunque questo per dire di come si va solo ed esclusivamente in una direzione anche con dei titoli forti che terrorizzano quando poi in realtà si esclude completamente l'altra faccia della medaglia lì non è stata proprio trattata si è dato per scontato che fosse il covid l'argomento più leggero invece riguarda il casco gigante di Valentino Rossi che oggi verrà inaugurato a Pesolo in un quartiere di Pesolo allora il titolo vale eccolo qua arriva il maxicasco delle meraviglie così questa zona uscirà dal cono d'ombra la soddisfazione dei titolari di attività vicine al palazzo d'annunzio un tir lo depositerà fin dal mattino poi alle 18.30 il doctor cioè Valentino Rossi in persona sarà lì presente per tagliare il nastro e dunque oggi per Pesaro è il giorno dell'omaggio a Valentino Rossi stamattina l'enorme casco il più grande del mondo almeno così dice il comune di Pesaro arriva da Riccione su un tir lo depositeranno in piazzale d'annunzio sul pratino sintetico in attesa dell'arrivo in persona di Valentino Rossi alle 18.30 per l'inaugurazione cui parteciperà anche ovviamente il sindaco della città un po' di sport velocemente con la pagina del Fano che oggi inizia così scrive il Corriere Adriato la sua avventura la squadra si raduna a Frontone dove resterà fino al 13 di agosto in programma il Cunitest Mosconi in giornata potrebbe accogliere l'attaccante Padovani che conosce molto bene l'altra pagina invece riguarda la VL quindi il basket settimana della verità forse oggi l'annuncio di Moretti poi potrebbe arrivare Delia c'è più concorrenza per Manic il roster ormai è ben delineato Repegia ha chiesto la squadra al completo fin da subito e pare che l'avrà mentre sotto il volley di massima serie a Fano parliamo della Vigilar che milita in serie a tre un avvio in salita ma la Vigila ci sarà è un'intervista o meglio una valutazione che fa il coach della Vigilar della Virtus Maurizio Castellano che è allenatore appunto e che parla del calendario dei fanesi i giovani dice lui ci aiuteranno e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito come sempre vi auguro una buona giornata e vi ricordo che stasera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhera Notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti